11 luglio 1982 L'ultimo gradino prima di entrare in campo Guardo gli avversari dritti in faccia Rispetto ma niente paura Siamo arrivati fin qui Vogliamo vincere 11 luglio 2021 Lo so ragazzi, è un taglio guida Ma vi deve guidare la consapevolezza E aver fatto tutto bene Avete meritato di essere qui Come noi allora Siamo orgogliosi di voi Comunque vada Godetela, divertitevi Come ha detto il vostro grande mister Roberto Mancini Ma davanti dito Ci deve essere solo un pensiero a guidarvi Una nazione che lo chiede Ragazzi, siete a Wembley Per vincere Dallo stadio Wembley di Londra La finale dell'Europeo E da l'Inghilterra